Questa Serie A? Speriamo, nel senso che ci sono tante squadre forti, tante squadre che lottano per l'Europa, noi dobbiamo pensare di stare tranquilli, di non farci topi veggimentali, dobbiamo pensare a partire dopo partite e poi vediamo cosa succederà. Che emozione è stata per te tornare a San Siro, anche se questa sera c'era un ambiente un po' particolare, come hai anche vissuto tu questo tipo di ambiente con tanti bambini presenti? San Siro per me è speciale, rimarrà sempre speciale perché ce l'ho nel cuore, abitavo qua davanti e quindi per me vederlo è sempre un'emozione fortissima. È stata la cosa dei bambini, nel senso è stata importante perché dopo quello che successe è importante dare un segnale al mondo del calcio e dobbiamo ripartire dall'entusiasmo di questi bambini.